con Nunes. Ed eccoce le immagini di Stella Rossa, Atletico Madrid 0 a 2, successo della formazione spagnola a Belgrado di fronte a 85 mila spettatori, la squadra di Belgrado ha attaccato moltissimo, stiamo vedendo proprio le immagini iniziali della partita con una serie pressante di attacchi della formazione della Stella Rossa che però è stata colpita due volte e ha subito una sconfitta che appare a questo punto decisiva, sconfitta in casa per 0-2 sicuramente proietta il complesso dell'Atletico Madrid verso la vittoria. La partita è stata diretta da Agnolin che ha anche espulso un giocatore jugoslavo, Djurowski e si era ancora sull'1-0 e ha espulso, ecco attenzione qui c'è un attacco portato dai giocatori dell'Atletico Madrid che hanno effettuato una gara molto saggia, ecco un cross con il palo colpito da Marina e il gol di Da Silva, l'Uruguayano Da Silva, ecco il cross, Marina con il numero 11 interviene, gira bene, colpisce il palo, prontissimo in agguato Da Silva e batte il portiere Linkovkan. Poi riprende ancora la serie di attacchi da parte della formazione della Stella Rossa di Belgrado, ottimo è il portiere Figliolo, l'argentino Figliolo, ricorderete, campione del mondo, ancora qui palo colpito Da Silva riprende, nonostante fosse già infortunato, riprende lui stesso e realizza il gol del 2-0 proprio all'ultimo minuto della partita, siamo al 45esimo del secondo tempo, un gol per tempo di Da Silva, proietta l'Atletico Madrid verso la semifinale, ecco prontissimo Da Silva con grandissimo senso dell'opportunismo, grandissimo senso della posizione sotto la rete.